Musica Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a quest'anno Come, l'Italia, la formazione iniziale dell'Italia con il numero uno con il numero 15 Andrea Vardagli con il numero 3 con il numero 5 con il numero 5 Fabio Carisse e Beppe Bergomi vi danno il benvenuto a questo incontro tra squadre nazionali l'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica aspettiamo solo il fischio dell'arbitro e con l'Italia imbattuta inizia il match Beppe che ne pensi della partita di oggi? se dovessi scommettere su un vincitore non saprei chi scegliere prevedo un incontro molto equilibrato il direttore di gara è conosciuto per uno stile di arbitraggio all'inglese si Fabio non credo che sentiremo molti fischi quest'oggi grande tempestività nell'intervento Pirlo con l'intacco Maggio scarica sul compagno eccellente intervento di Cole che ora può impostare l'azione De Rossi trovate la distanza e il tiro viene bloccato Parker Bent Barry Montolivo Palla persa in fase di impostazione Trova il confatto a blocco ha sprecato l'occasione ora gli avversari hanno la palla Brunei superbe in fase difensiva e ruba la palla all'avversario Wayne Brunei Bent lottano per il possesso della palla Pirlo raggiunge il compagno attenzione solo Sarà l'Italia a occuparsi della rimessa laterale Cassano rinuncio lungo intercetto al cross Brunei prova ad andare Bent appoggio è fuori misura sarà rimessa laterale Marchisio grande giocata di Balotelli Johnson Brunei palla al piede Bent Young deviazione e palla fuori palla fuori e rimessa laterale per l'inghettino Barry si libera della marcatura difesa impeccabile Montolivo duello fisico per il possesso della palla vedremo se riuscirà a concretizzare questa occasione circa addirittura la porta un tiro che ha lasciato decisamente a desiderare strappano la palla agli avversari non passa Wolcott di forza Runei Parker passa la palla conclusione affrettata la conclusione dalla distanza di Runei sembrava destinata in fondo alla rete i giocatori erano già pronti a festeggiare e però non avevano fatto i conti con il portiere ha salvato un gol sicuro Fabio rimediando alle distrazioni della difesa che sarà fallo laterale assegnato all'Italia De Rossi scarica sul compagno niente da fare Parker è Nerunei che si libera del proprio marcatore conquista un ottimo pallone si inserisce e ferma l'azione offensiva Cassano gioco di passaggio pianta sul posto l'avversario nell'uno contro uno è davvero imbattibile tenta l'Italia si è portata in gol ha realizzato un gol davvero opportunista è un rapinatore d'aria sa sempre dove finirà la palla prima dei difensori ha freddato il portiere con questo tiro preciso nell'angolino splendido il gol palla intercettata riesce il passaggio attenzione solo ancora in gioco i giocatori si avventano sulla palla vagante spazzata classica il rinvio termina nuovamente tra i piedi degli avversari tiro improvviso ha calciato bene dalla distanza ma deve aver calcolato male la traiettoria del pallone che è terminato di poco fuori dallo specchio della porta di solito è micidiale da fuori stavolta sono stati fortunati ma in futuro dovrebbero evitare di concedergli tutto quello spazio Cassano palla persa palla persa grande intervento di Terry ferma gli avversari possono ripartire Yang passaggio a buon fine c'è il cross li fermano con grande convinzione bellissimo il passaggio lancia illuminante la mette dentro e porta la squadra in parità prete che è stato il frutto di una bella azione corale si hanno fatto girare la palla attaccando bene gli spazi al momento giusto non hanno sbagliato ottima scelta di tempo di Ashley Cole che ora può servire i compagni e sarà a punizione da un'ottima posizione la munizione per l'Inghilterra l'allenatore dell'Inghilterra non sarà contento battuta la punizione barriera palla in pallo laterale la rimessa è a favore dell'Italia Montolivo palla al compagno buono l'intervento in copertura Wayne Rooney è uno che non perdona basta lasciargli mezzo metro di spazio e ti fa secco ottima occasione palla che termina sul fondo la mira ha bisogno di una regolata Barzagli Criscito Balotelli Maggio gioco di passaggi attenzione cross in area nessun problema per la difesa gli avversari interrompono l'azione e perdono il possesso De Rossi Cassano trova il compagno il difesore riesce a intercettare fa su il pallone cerca la rete e non c'entra lo specchio della porta ha colpito male Fabio il pallone esce dal campo sarà rimesso dal fondo per l'Inghilterra Bent Young la palla è ancora lì attenzione solo e il tiro finisce a lato l'idea era buona Fabio il tiro un po' meno Balotelli Walcott Johnson tutti si aspettano molto da lui mi domando se si rivelerà l'altezza della situazione si fa trovare sempre pronto quando si tratta di supportare la manovra d'attacco ma così facendo lasci inevitabilmente scoperta la difesa palla che non filtra Cassano ottimo il tackle sull'avversario adesso può provare a far partire i suoi compagni Walcott gli avversari riconquistano palla Maggio Montolivo Berry Passaggio riuscito e non trova la seconda rete ha tirato male questa volta Fabio Traversone nulla di fatto il cross è facile preda del portiere Passaggio sulla fascia Berry Runei si impadronisce della palla con grande autorevolezza Raggiunge il compagno Attenzione fallo laterale per l'Italia da buona posizione De Rossi Grande opportunità la palla viene messa in mezzo ma finisce preda degli avversari l'Italia l'Italia usufruisce quindi di un calcio d'angolo calcio d'angolo sprecato malamente Tiro dalla distanza tutto facile per il portiere e sarà dunque corner per l'Italia L'Italia I Rossi sulla palla grande intervento con questo contrasto Attenzione solo e interviene sulla palla Tiro! Tiro deviato dal difensore De Rossi Trova il compagno Attentissimo, sventa un pericolo Fine del primo tempo, tutti a prendere un teccato Risultato di parità che rispecchia anche il valore del campo Sì, per ora nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi sull'altra Inizia la seconda metà di gara, Beppe Pensi che le due squadre riusciranno a reggere i ritmi dei primi 45 minuti? Difficile da dire Fabio, hanno speso molto Ma se tratta di due formazioni che giocano a viso scoperto Sicuramente continueremo a divertirci Rooney, prova ad andare Parker Splendida la lavorazione Raggiunge il compagno Intervento pulito, passò la palla sulla fascia Un'ottima chance, trova il compagno smargato La palla ancora in gioco, deviata fuori dal campo, bravissimo il quartiere L'Italia superisce quindi di un corner Testa! L'Italia è segnato E con queste sono due le reti di questo giocatore Un calcio d'angolo battuto alla perfezione Ruina il pallo al piede Sviluppa il gioco, chiudono il proseguo dell'azione Azione che non ha sviluppo, hanno chiuso bene E il pallo interrompe l'azione d'attacco Il direttore di gara prova ad amministrare la partita senza estrarre i cartellini Deve stare attento a non lasciarsi sfuggire di mano la situazione Palla sul palo e poi nuovamente in campo Criscito Palotelli Vanno a girare bene il pallone Palotelli Sta facendo ammattire i difensori avversari Se continua così potrebbe vincere il premio come migliore in campo Montolivo Bent Balotelli De Rossi Luba palla all'avversario Bent Walcott Bent Attenzione solo e con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato di nuovo in bilico E con questo gol si torna al pareggio, bella partita Attacco Marchisio Cercano spazi L'attacco non si è concretizzato La palla è di nuovo in possesso della squadra avversaria Montolivo Cassano Cassano Pallone che torna in possesso degli avversari Bent Cerca i compagni La palla vaga pericolosamente in aria Nulla di fatto ma se continuano così riusciranno di certo a passare a mandato Un cambio d'attacco per cercare di spezzare il equilibrio Vedremo se avrà successo Chiellini Balotelli Entra in modo perfetto Walcott Bent E il portiere blocca il tiro Johnson Balla agli avversari Cassano Balotelli Italia usufruisce quindi di un calcio d'arri Tira di testa Possibile cambio di fronte Montolivo Completa il passaggio Riesce il passaggio Attenzione solo E c'è il sole passo Riede importante Tre gol per lui oggi Sì sembra davvero inarrestabile Fabio La sua avanzata maestosa si è confusa con un gran gol Di forza Rene Barry Johnson Vantaggio di vera gioco Serve benissimo il compagno Segue sempre il gioco Chiellini Bravo a intervenire Si riprenderà con una rimessa dopo che la palla è carambolata sul corpo del giocatore E l'arbitro Ramoniscio Pensava già di averla fatta franca ma l'arbitro aveva concesso solo il vantaggio E sarà fallo laterale assegnato a Litano Chiellini Barzagli Maggio Pirlo Balotelli Palla al compagno Il tiro viene respinto Il pagno è entro in rete Di avversari erano palesemente ancora stardite dal precedente gol E loro ne hanno approfittato Qua in ruine Walcott L'inghilterra soffrisce quindi in un corner E invece di si fa largo Prova il tiro Cadere il rete Hanno risposto subito con un gol Al gol degli avversari Non si sono persi d'animo Spingete subito sull'acceleratore Bellissimo gol Di sicuro non furto di una giocata casuale Chiellini Mantengono in possesso di pallone Balla con questa serie di passaggi Barzagli Marchisio Maggio Pirlo Allunga il compagno È in posizione per il cross Supera il difensore Intercetta il pallone Tutto da rifare Johnson Cahill Cahill Terry Cahill indispensabile per questa squadra Fabio. Montolivo. Un altro passaggio perfetto da manuale. Sì Fabio la squadra sta interpretando davvero bene la partita di oggi. Sta facendo girare palla con abilità e precisione. De Rossi. Attenzione solo. Grande numero. Sono riusciti a fermarlo. Strappano la palla agli avversari. De Rossi. A spazio. Prima il tiro. Tiro centrale che il in cui inserisce Portiero. Palla al compagno. Non li lasciano giocare. Si libera grazie al passaggio. Prova a mettersi qualcosa ma il tiro finisce abbondantemente fuori. Decisamente l'ha alzata troppo Fabio. l'allenatore decide di operare una doppia sostituzione. Barry. Walcott. Raggiunge il compagno. Prova il cross. Blocca l'avanzata a forzare. Recupera la palla. De Rossi. E sfuma l'azione. Marchisio. De Rossi. Chiellini. Cassano. Maggio. Attenzione solo. Ottima occasione. Pallo esterno e palla sul fondo. Marcato stretto. Non ha trovato spazio per tirare. Chiellini. Marchisio. Balotelli. Nocerino. Capisce tutto e ruba palla. E si continua a giocare. Bravo l'arbitro che fischia visto che il vantaggio non si è concretizzato. Chiellini. Di Natale. Bel passaggio. Cerca il gol. Il tiro viene bloccato. Sviluppano il gioco. Grande opportunità. Manovra che viene interrotta. Chiudono il proseguo. Restringe un tiro indirizzato in porta. e l'arbitro fischia la fine dell'incontro. 4 a 3 e il risultato finale. E per un attacco così vincere diventa più facile. Sì, oggi hanno dato una prova di forza impressionante. Siamo giunti alla fine. Una buona serata da Fabio Caress e Beppe Bergoli.